Grazie a tutti. E in questa meditazione faremo un breve viaggio. Vi trovate a camminare su una spiaggia sabbiosa. E lì, di fronte a voi, c'è una bellissima barca, perfetta per voi. Quindi salite sulla barca e andate nell'oceano. E l'oceano dove vi trovate è chiamato l'oceano della pace. E in questo oceano della pace c'è un trasferimento di energia che vi circonda, che va nella vostra struttura cellulare del vostro corpo. E mentre vi sedete lì, galleggiando nella vostra barca sull'oceano della pace, lentamente vi rendete conto che la vostra barca si muove con una corrente, si muove da sola. E in questo oceano della pace, la corrente vi porta verso una bellissima baia, che si chiama la baia della tranquillità. E mentre vi guardate in questa bellissima baia della tranquillità, notate che c'è un fiume che fluisce nella baia. E in un modo che va oltre la logica e tutte le regole, la barca si muove su verso il fiume, lungo il fiume. E il fiume che è stato attraversando è il fiume dell'abbondanza. E mentre viaggiate nel fiume dell'abbondanza, c'è un trasferimento di energia da questo fiume dell'abbondanza nella vostra struttura cellulare del vostro corpo. Qual è l'abbondanza che state aspettando? È l'abbondanza di salute? È l'abbondanza di bellissime relazioni nella vostra vita? È l'abbondanza di prosperità? In modo tale che avete soddisfatti tutti i vostri bisogni? Qualsiasi cosa sia per voi, permettete di ricevere questo trasferimento di energia dal fiume dell'abbondanza. E adesso giungiamo a una bellissima cascata. La vostra barca vi fa avvicinare verso questa cascata. È la cascata della gioia. È davvero una dolce acqua che scende da questa cascata. E potete muovervi sotto questa cascata. E tutto intorno a voi, con vostra sorpresa, quest'acqua è calda e vi abbraccia. E questa è la cascata della gioia. E c'è un trasferimento dell'energia da questa cascata della gioia nella vostra struttura cellulare del vostro corpo. E quando uscite da questa cascata, vi muovete sulla riva e camminate su un percorso. E questo sentiero vi porta in una valle. È la valle dell'amore. E trovate un bel posto dove sedersi in questa bellissima valle dell'amore. Sentite il trasferimento dell'energia nella vostra struttura cellulare, del vostro corpo. Non c'è nient'altro da fare, semplicemente permettere a voi stessi di rimanere ed essere immersi in questa energia calda della valle dell'amore che fluisce nel vostro cuore. E con questo, adesso invitiamo Kryon a unirsi a noi nella valle dell'amore. Vi saluto, miei cari. Sono Kryon, del Servizio Magnetico. Crogiolarsi nel calore, nella bellezza, nella pace, nell'amore. Quanti di voi possono farlo? La risposta è tutti voi avete l'opportunità di abbandonare qualunque cosa che sia spaventosa o qualunque cosa che non sia amore. E questa è sempre stata la canalizzazione sin da quando incominciamo, carissimi. L'essere umano è costituito da un frammento del cosmo. Potete chiamarlo Dio. Vi siete mai domandati di cosa sia fatta la vostra anima? Vi siete mai domandati se la vostra anima sia al comando di qualcosa o no? è vero quello che si dice sul pianeta che voi non siete nulla e che Dio è tutto? Cos'è l'anima? Dov'è la vostra anima? Ve l'abbiamo sempre detto che l'anima è eterna. Non avete mai ricevuto una storia che abbia senso sulla creazione dell'anima. Non davvero. se l'anima è sempre esistita allora vuol dire che è una parte del creatore che è sempre esistito. E miliardi, trilioni di anime costituiscono la famiglia di Dio. è possibile che voi siate un frammento di quello che chiamate Dio? Per qualcuno questa è blasfemia. Non può essere. D'è stato detto che Dio è tutto e voi siete nulla. Questa è la programmazione che dovete affrontare ed ecco perché alcuni di voi oggi temono persino Dio. I messaggi delle ultime tre settimane riguardano la speranza e questo sarà il quarto. Parafrasando quello che abbiamo detto la speranza non è fede perché la fede significa fidarsi dell'invisibile e non vi coinvolge mentre nella speranza siete coinvolti perché è un'energia di progettazione. Mettete aspettative positive davanti a voi su quel binario del vostro futuro. Questa è la speranza. È un'energia attiva non passiva come la fede. La speranza è progettare benevolenza. voi sperate che la benevolenza risolva le questioni che vi preoccupano. La speranza è trasformativa. Se una persona passa dal non avere speranza alla speranza vivrà più a lungo. La sua chimica cambierà. Cambierà tutto perché ci sarà gioia. La speranza è attiva in questo carissimi. Ve lo abbiamo detto tante volte che si tratta dello sviluppo di una coscienza energetica. Avete sentito? Di fatti si tratta di progettare una coscienza energetica. La speranza è qualcosa di tangibile. voi la create e la mettete davanti a voi. Questa è la speranza. La speranza guarisce. Lo fa davvero. La speranza guarisce. La speranza è il futuro. Lo è davvero. Chi ha speranza nella propria vita tutti i giorni può plasmare il futuro in ogni cosa che farà perché la speranza creerà sincronicità così incontrerete le persone giuste perché avete impostato quella speranza un'incredibile energia creativa davanti a voi e sarà come se la sincronicità corresse da voi grazie a questo. Che bellissima energia è questa. Questa è la quarta settimana in cui ne parliamo. La speranza viene anche vista come un proiettile magico che cambia le vite dalla disperazione dalla depressione alla gioia. alla comprensione. Avere speranza non significa starsele seduti a osservare e a desiderare cose. La speranza non è desiderio. La speranza è un'energia di progettazione. Un'energia che preparate e dite questo ho qualcosa di meglio. Lo metto davanti a me sperando per il meglio. Magari non sapendo neanche cosa sta per arrivare ma sapendo che sarà la cosa migliore per me. Sapendo che ci saranno soluzioni per me ma non solo per me. gli operatori di luce insieme possono creare una coerenza di speranza che cambia il pianeta. Sta accadendo adesso persino in questo momento. a volte sembra che il pianeta sia in fiamme. Ci sono tante cose tante persone si stanno opponendo. C'è tanto conflitto e tante cose scorrette. Ci sono scoperte dolorose su ciò che sta accadendo e cose inappropriate continuano ad emergere ancora e ancora. e chi non è consapevole di cosa apporti davvero il cambiamento ovvero quello di cui abbiamo parlato per anni e che è incominciato nel 2012 chi non è consapevole del cambiamento vive questo come un colpo devastante per la psiche e per la speranza del pianeta non sapendo che quando la luce viene accesa lo sporco si mostra. Quando si accende la luce in una società dove c'è sempre stata disuguaglianza lo sporco si mostra e dunque inappropriatezze orrore è tutto lì in ogni società e non implica necessariamente la terza guerra mondiale è semplicemente lì ed è stata la natura umana per secoli ma quando viene svelata è brutto. e c'è ancora altro che deve essere rivelato prima di arrivare al punto in cui man mano potrete ripulirlo e man mano potrete dimostrare agli altri che questo non sarà più tollerato e man mano che si svelerà verrà affrontato e risolto. È questo quello che dovete ricercare perché così non sarà più ripetuto e persino chi aveva investito in questo dirà oh oh forse è meglio non continuare a farlo chi aveva investito in questo dirà beh forse il gioco è finito adesso ha funzionato negli ultimi 50-100 anni ma non funzionerà ancora ecco cosa sta accadendo ed è ovunque ecco perché la terra appare in questo modo ma carissimi c'è qualcosa che potete fare voi adesso e che va anche oltre questo nelle scorse settimane vi abbiamo chiesto di inviare la speranza e questa energia di manifestazione all'umanità vi abbiamo chiesto di inviarla per la luce del pianeta nel cambiamento vi abbiamo chiesto di inviarla a voi stessi per la guarigione questa volta sarà un po' diverso nella meditazione è stato detto che riguarda tutto Gaia questa terra è vostra collaboratrice e vuole partecipare nella speranza che voi avete e che progettate è il tempo di inviarla al pianeta all'aria che respirate al clima che sta cambiando forse in modo spaventoso ma è un cambiamento programmato ed è già accaduto prima inviarla al pianeta che ha bisogno di sapere che presto arriveranno invenzioni e non ci sarà più bisogno di inquinare il pianeta per avere energia arriveranno presto invenzioni e avrete abbastanza cibo e acqua e non inciderete più sul pianeta è il momento di amare il pianeta forse è il momento di abbracciare un albero di prendere la speranza per Gaia e inviarla in avanti di sapere che essa recupererà e risponderà e che essa rimane ancora oggi una vostra collaboratrice questa è questa è la speranza per il futuro che vi chiediamo di inviare questa settimana a quell'amore che è nella valle alla pace alla bontà alla compassione a tutto ciò che è Gaia inviatela adesso e fatelo nel nome della speranza perché gli operatori di luce fanno ovunque la differenza io sono Crayon innamorato dell'umanità e così è